Il spettacolo al Salone Margherita di Roma con la compagnia del Bagallino. La presidente Valeria Marini è eletta al Quirinale e il titolo dello spettacolo scritto da Pier Francesco Pingitore che ipotizza un presidente della Repubblica Donna. L'ipotesi forse estrema ma non impossibile dar via ad una serie di gag comiche di situazioni anche paradossali che prendono spunto dalla realtà. La presidente Valeria Marini infatti sul palco fa tutto ciò che farebbe qualsiasi presidente della Repubblica al suo posto. Riceve i grandi della terra, Trump, Putin, la Merkel e gli esponenti di casa nostra, Conte, Di Maio, Salvini e Grillo, Lameloni e per ciascuno una parola, una canzone da offrire. Sul palco insieme alla showgirl ci sono gli attori Martufello, Mario Zamma, Manuela Villa, Morgana Giovannetti ed Enzo Biscopo che interpretano i vari personaggi politici del momento. E nel finale lo spettacolo ci riserva una sorpresa, anzi una soluzione che farà il bene dell'Italia. Ma per conoscerla andiamo al Salone Margherita.